Ok, iniziamo a giocare va? Devi ricostruire quello che ti dice di fare Ok Ok Puoi la chiedere? Eh, adesso lo vedi Perché c'è un guardiano là? Devi fare questa cosa, devi ricostruirla Ah, un pozzo con dell'acqua al centro, due rose, ok Tre per... Perfettamente Uno, aspetta no Scherzavo Uno, due, tre 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 Chi villagerà qui? Ok Dove era il villaggere? Eh, è buono, gliel'ho messo a caso quello Uno, due Non mi ricordo dove erano le rose Ah, metto qui Qua Che cacchia È finito Mi sa che ho perso io, lo sai Perché? Ho fatto 73% E come faccio io a saperlo? No, hai perso tu Perché? Ma è giusto Adesso tu rimani a guardare, aiutami Ma era uguale Ancora sta cosa Ma no, è una casa Dove sei te? Non ti trovo Ok È una casa di fango Perché non ti posso avvicinare? Era tre per tre o cosa? Mi pareva che fosse tre per tre Sì, infatti Ma quindi anche la locazione dovevo disentrare? Sì Ah, eh, quindi se io l'avevo fatto spostato 11, 10, 9, 8, 7, 6 Non mettermi ansia 5, 4, 3, 2, 1 Hai fatto il buco sul tetto Non me ne frego un cazzo Ho perso io, ho perso io No, no, c'è chi ha fatto anche più schifo, eh 88 ho fatto 88 con Firmand Bella, dai E guardiamo con chi c'era alla volta Come lui Che cazzo? Che cos'è? Un pollo Eh, questo è difficilissimo Non me lo ricorderò mai Allora, le gambe erano qua Poi com'era fatto? Oh, aiuto Aveva due gambe laterali Era tipo così? Sì, più avanti le gambe No, no, erano così le gambe Erano più avanti, fidati Erano qui Allora, mi sono messo il punto Ok Poi Devi copiare lui Devi copiare lui Beh, sì, più o meno Ci siamo, beh Non è un pollo Ma quasi Sì, può andare Vai, vai Quello lì ha fatto peggio 56% Porco Giulia Vai, vai Che vinco Devo vincerla Sì, vabbè Poi Beh, la mucca è in centro Il fungo Il fungo Ok, piazza la mucca Lì ce n'era Uno Due Tre Quattro E poi uno laterale Un altro laterale Ok Il fungo Dove Lì Qui Sì, in basso Però Sotto No, non sopra Rimettilo, rimettilo Rimettilo Lì, lì, sì Ok Basta un attimo Perdo io Quanto? 75 Quel tizio l'ha fatto peggio No, no, no Sì, sì, sì Bella, bella, bella Eh, sì Poi Allora Centrato sono 4x3 Ok 4x3 Piazza in mezzo Fai tutta la linea di Dritta 2x2 In centro No, era 3x3 3x3, sicuro? Sì No, troppo 3x3, vero 3x3 E poi devi farlo Da 4 Altro 3 Tutte e due Da 4 Eh, ma No, più avanti ancora Di 1 Perfetto Stessa cosa di lì E alto 2 Allunga, allunga No Di 1 99% C'è chi ha fatto perfetto E altri che ne hanno fatto la cavola Cos'è sta roba? C'è buggato? È 97% Quel tizio l'aveva fatta malissimo Oh, siamo rimasti in 2? Sì Lui Lui l'aveva Eh, vabbè Ok 3 No, dai Non è troppo difficile Sì, vabbè Ma non hai tempo E quello è il punto 1, 2 3 1 Lì 1, 2, 3 Metti la ringhiera sotto Di nuovo Aspetta Era qua la ringhiera Sì Vai, vai Metti, metti Metti 1, 2, 3 Vai a fare l'altro direttamente Aspetta Ne è inutile quello E poi erano rosse quelle Quella era rossa Guarda, fa culo 1 Vai, vai Intanto piazza te Non mi ricordo com'era Troppo lontano No, no, no Giusto, giusto Scusa L'ho perso io Se Mi dispiace Da Ultimi due però, dai Dai, il podio Dai, l'altro partito Ho vinto Come mai? Mi ha detto che ho vinto Hai vinto Lol Ma lol Adesso Ok, lo rifacciamo, va Intanto io stavo Ho vinto Ho vinto pure 2000 gem Io 226 Può essere Io Io 2800 gem Fury Ackermann Faun 8 Pierce 5 Bat Che cosa sono? Abu Reward Possiamo rewardare Mi ha dato 100 gem Eh, lo so Lo dazze Tanto io neanche mai le uso le gemme Io si quando per esempio mi serve qualcosa Tipo i kit No, non perdere subito stavolta Non perdere subito Come funziona qua? Adesso parte Allora, qui Cubo del nether con roba nera Latti da due E dopo di che E dopo di che Due per due con il blocco sopra Si può fare Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blocchi neri Qui, 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 qui Qui Zio treno Qua, qua 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Poi blocco 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 100% C'è quel tizio L'ha fatto malissimo Andre Oh, dov'è chi sei? Io sono questo qui Oddio un biscotto Ok Ok, no, no, no Lo posso fare Lo posso fare Ma Pannocchia Come cacchio è Rappeto Qui Ok Qui Poi 1, 2 Questo 1, 2 Questo 1, 2 Poi Qui E L'ultimo Fatto 100% Quello l'ha fatto a casa Eh, sì Ok Oh, no Sono caduto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tuk 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 No, no Ho sbagliato L'ho fatto peggiore di tutto No, quello l'ho fatto peggiore ancora Quindi Tre cosi qui Va bene E Una Sesi Qui Qui E Qui E Qui perfect erano tutti nella stessa fila e a figuri perfect match, bella mi sa che siamo in parità no quello ha sbagliato io ho fatto perfect anch'io 100% beh dai almeno il pavimento non lo abbiamo dovuto cosa è la gigante Elvil? ok non è troppo difficile dai per 3 e 2 ok dov'era al centro qua? era un 3x3? si poi com'era sopra? più lungo di uno rispetto al sotto si ma quanto era alto? due ma non si può saltare no? come 5 secondi eh vabbè ho perso io ho perso io fidati no ho perso io l'ho fatto scentrato mi sa 47 69 ho perso io fiori è stato eliminato vero mi è andata di di fortuna in maniera brutale dai adesso ti guardo vabbè questo è quello di prima ok quindi 3x3 con no dove cacchio è la porta ah ok il tizio va qui ok questo va qui e poi avevo fai il 3x3 centrale sbrigati sbrigati cacchio era qua questa è la finale c'era il buco sopra o era chiuso? no no era chiuso era chiuso era chiuso 3x3 3x3 dai dai muoviti no ho finito i blocchi come? sai che li fai eh ti sono caduti i blocchi sono qua cavolo mancavano due blocchi ok questo l'ho fatto ancora peggio quanti hai fatto? step hai vinto uh vinto yeee facciamo dopo facciamo anche quello dove dobbiamo costruire le robe ma direi di finire qua va mh? finisco qui il video ah ma stavi pure registrando? si certo è ovvio ciao ciao